Buongiorno, buongiorno a pochi giorni. Dal Natale, in questo venerdì 22 dicembre 2017, siamo reduci anche come TV6 da questa lunga diretta che si è chiusa ieri sera intorno alle 23.30 per seguire il pareggio tra Ascoli e Pescara. La gara finita 1-1, una prestazione comunque brutta da parte dei biancazzurri di Zeman che chiuderanno l'anno giovedì prossimo il 28 di dicembre nella gara interna contro il Venezia di Inzaghi. Chiaramente in questo spazio rivedremo anche i riflessi filmati della partita, le impressioni degli allenatori, però soprattutto sfoglieremo come da nostro costume i giornali, i locali ma anche le prime pagine nazionali. Allora partiamo subito con le prime pagine locali, le quattro edizioni del centro, questa è l'edizione pescarese, il titolo d'apertura, babysitter costretta a prostituirsi e a Pescara picchiata e minacciata, la ragazza riesce a fuggire, arrestati marito e moglie. Poi sotto la testata leggiamo anche mille agricoltori, dichiarano guerra al grano importato col diretti, Abruzzo scende in campo. Cena nel Terramano, 200 allevatori ripartono dopo il sisma, in regione scontro in consiglio sul bilancio da 6 miliardi. Poi dei richiami su fatti nazionali, politica e banche, Renzi, Blinda, Laboschi resta al suo posto. L'intervento, ecco qui, è andato bene, separate le gemelline stanno bene. Poi la fotonotizia al centro, proprio relativa alla partita di ieri del Pescara ad Ascoli. Non basta il gol di Crescenzi, Pescara occasione persa, Biancazzurri sotto tono, non vanno oltre il pari ad Ascoli. Di spalla una serie di richiami, consiglieri già in vacanza, salta Latari, troppe assenze in aula. Sempre a Pescara, classico intesa, ragazzi preside dopo le minacce. A Montesimani invece case sul mare, residenti contro il comune. In basso all'Aquila, Cristicchi, si alza il sipario, il cantatore si presenta come nuovo direttore del TSA. E invece a Pescara, Ermalmeta e Caposela, concerti gratis in piazza. E ora l'edizione di Chieti del centro, l'apertura. Megalò 2, bocciati i nuovi negozi. Il comitato regionale via dà lo stop all'ipermercato, c'è ancora il rischio di allagamenti. La fotonotizia, camion precipita per 40 metri, grave l'autista di Casoli. Tutto questo è avvenuto a Guardia Grele ieri mattina. A Chieti i costruttori donano le luci sul corso. A Lanciano sì al Piano Neve, ma ci sono solo 7 mila euro. A Vasto, appunto, è andato a Vasto, ma per lo Stato è di Istogno. Andiamo ora a vedere l'edizione di Teramo del centro con questa apertura. Studente muore in casa a 18 anni, notaresco ucciso da un malore. Frequentava l'ultimo anno al Moretti di Roseto. E poi la fotonotizia, eccola qui, aperto il villaggio antisismico più grande d'Abruzzo. La cerimonia ieri a Torricella, sicura alla presenza, come vedete, del governatore D'Alfonso e del sottosegretario Mazzocca. Poi di Spalla, aveva 61 anni, l'opera Piange di Mattia, regista Teramano. Annereto, bar devastato con un SUV per rubare 100 euro. E poi sempre a Teramo, niente accordo per riaprire subito la piscina. In basso, sotto la fotonotizia, scippata tre volte in un anno, Giulianova l'anziana è rassegnata. Non denuncio, non serve. E poi l'edizione aquilana del centro con questa apertura. Tasse, la restituzione è slitta a gennaio. L'Aquila, tributi sospesi post-sisma, lolli. La norma è fatta, manca la pubblicazione. La fotonotizia a Collemaggio spuntano i doppi turni per i matrimoni. La riapertura della Basilica dopo il sisma del 2009. Poi i richiami di spalla. Ecco qui, a Prato la Peligna, ladri nel centro, anziani per rubare. Pochi spiccioli. C'è la sentenza, Rocca di Mezzo, il Tar, rifare le elezioni. Poi per lo sport, il rugby Leni è il nuovo main sponsor dell'Aquila Rugby. Poi ancora, corruzione, nove mesi a Colella, condannato il patron della Santa Croce dal Tribunale di Milano. E ora la prima pagina del messaggero Abruzzo. Questa l'apertura minacciate con riti voodoo. Ragazze fatte arrivare dalla Nigeria con la promessa di un lavoro e costrette a prostituirsi. Una si rivolge alla polizia, arrestati, marito e moglie, ritenuti gli organizzatori del traffico. Sotto la testata a Pescara. Settimana corte, contributi al liceo classico. In furia la protesta. Capodanno, Caposela e Dermalmeta, Pescara, Blinda, Le Piazze. E poi il sisma, consegnate nuove casette ai terremotati di Tosticia. Il Paese del Cratero aveva già ottenuto 32 moduli d'emergenza abitativi. D'Alfonso è la prova che lo Stato non ha abbandonato gli sfollati. Di spalla leggiamo anche lo sciopero dello shopping in attesa del Natale, con la durissima presa di posizione dei sindacati, delle grandi catene commerciali. La fotonotizia dedicata al calcio. Pescara, un pareggio molto sofferto. Gol di Crescenzi, ma poi Lascoli rimonta e finisce 1 a 1. 1 a 1 in taglio medio. Muore a 18 anni tra le braccia del fratello minore. A Notaresco la vittima è uno studente lavoratore. Fatale, forse una complicazione della polmonite. Poi in basso, a Teramo, maxi sequestro, meglio nel Teramano, maxi sequestro di luminarie. Ora la città, il quotidiano della provincia di Teramo, l'apertura, muore nel sonno. A 18 anni, Notaresco, Bruno D'Agostino, trovato agonizzante nel letto dal fratellino. Poi, guardia di finanza, maxi sequestro di luci e giochi natalizi cinesi. A centropagina, la fotonotizia, abbiamo già visto nelle prime pagine degli altri quotidiani abruzzesi, il villaggio di Natale, a Torricella e Tossicia, consegnate 59 case ai terremotati. Di spalla, oggi i funerali, si è spento Maurizio Di Mattia, il signore dell'opera. Sempre a Teramo, un altro pedone investito in pieno centro. E poi, in basso, per lo Sport, Serie C, il Teramo stasera prova a regalarsi un Natale felice contro il Mestre. È la partita che apre il girone di ritorno degli uomini di Asta. Sarà anche l'ultima gara dell'anno, perché poi il Teramo riposerà nell'occasione del secondo turno di ritorno. Vediamo ora le prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, un grande spazio chiaramente al verdetto di ieri in Catalogna. Ecco qui, Spagna, vincono i separatisti. Puigdemont sconfitta. Madrid, gli unionisti di Ciudadanos, prima forza. Il voto scuote il Paese, maggioranza agli indipendentisti per tre seggi. Crollano i popolari. Sotto la testata il discorso in Vaticano, basta con i complotti, la svolta di Francesco. E poi, in taglio medio, Renzi difende Boschi. Giudicheranno gli elettori. Leader PD, Vicenza, senza conseguenze penali. Ed ora, vediamo la prima pagina di Repubblica. Ecco qui, in Catalogna, un voto anti-Madrid, ma brilla Ciudadanos. Unionisti, primo partito. E poi, in taglio medio, governo. Il giorno delle nomine. Vicini all'incarico. Nava alla Consob. Nistri al vertice dell'arma Farina. Capo dell'esercito Renzi. Su Boschi decidono gli elettori, ma lotti. Così non reggiamo. Calano le tessere del PD. Poi, scendendo, parliamo del caso Regeni. Regeni, seguito dai servizi, prima di essere ucciso, la procura. Ecco, dieci sospetti. Passi avanti nell'inchiesta. Poi, la storia. Juan, il bambino con due mamme, che per l'Italia è un fantasma. Auguri al veleno. Il Papa attacca traditori della Curia nel mirino i signori delle finanze. Poi, ancora, andiamo con il Fatto Quotidiano. L'apertura, la Boschi, Gran Turismo, tutte le finte missioni istituzionali. Intanto, Renzi la appoggia in pubblico, ma in privato ci ripensa. E poi, scendendo, ecco qua, le due Spagne, scrive il Fatto Quotidiano. Catalogna sempre più lontana. La vittoria degli indipendentisti. Maggioranza assoluta per Puigdemont e Ciudadanos. Primo partito. Avanti ancora. Siamo sul messaggero. Ecco qui. La Catalogna resta indipendentista. Exit Pol. Le tre formazioni autonomiste hanno la maggioranza, ma perdono voti e seggi. L'unionista Ciudadanos, il primo partito. Crollo dei popolari di Rajoy. Affluenza record, 82%. E poi, sotto la testata, Russia 2018. Mondiale di calcio per la prima volta senza la RAI. Diritti TV a Mediaset. L'intervista. Alisson, la Roma vuole lo scudetto a casa della Juve per vincere la fotonotizia al centro. Gerusalemme, schiaffo ONU a Trump. Israele, una risoluzione spazzatura, secca bocciatura della città santa come capitale. No, anche dall'Italia. E' sempre in taglio medio. Renzi, Blinda, Boschi decidono gli elettori, ma i big frenano, i big PD frenano. Caso Etruglia, scontro sulla candidatura e resta aperta l'ipotesi del passo indietro. Siamo ora a Libero. Ecco l'apertura, la riscossa dei nonni. Torna al comando la gerontocrazia. I vecchi non hanno eredi degni. Benettono, 82 anni, si riprende l'azienda. Idem del vecchio, stessa età. Berlusconi, 81 anni, ancora protagonista in politica. De Benedetti fa pezzi figlio. I giovani sono in crisi. Vedi, Renzi e Boschi, per tacere di altri. Poi, questa cruda fotonotizia. Questo baregliere ne ha uccisi tre, forse 50. Ammazzava i malati per venderli alle onoranze funebri. Poi, in basso, arriva l'influenza. Gli uomini soffrono di più, mentre le donne, grazie agli estrogeni, hanno meno problemi. Ora, il tempo, con questo titolo forte. Poveri Cristi, oltre ai regali al buonismo del siamo tutti uguali. A Natale, ricordatevi, i milioni di cristiani perseguitati. Dossier del tempo su morti, stupri e chiese a fuoco. E poi, in taglio medio, il detective Raggi scopre il complotto di Spelacchio. Indagini su chi ha manomesso l'albero. Virginia, chiederemo i danni. E poi, in basso, anche la RAI, eliminata dal Mondiale. La TV di Stato perdere per la prima volta i diritti. La spunta Mediaset. E poi, la stampa, ecco, nell'apertura. Barcellona, nuovo strappo con Madrid. Indimenti e dentisti in vantaggio. Nella Catalogna, divisa in due. Il voto per il Parlamento. Bene Ciudadanos, giù i popolari. E poi, la fotonotizia, la crociata del Papa contro i complotti. Francesco sferza la curia. Basta, traditori, lo scontro con i conservatori. E poi, ancora, in taglio medio, per la politica, i candidati di Berlusconi, Frattini o Tajani Premier. Le mosse del Cavaliere per Palazzo Chigi. Lui farebbe un passo indietro. Il sole 24 ore. L'apertura, una manovra da 1.247 commi. I tre pilastri tagliò alcune o bonus industria a 4.0 e ritocchi alle pensioni. Le complessità della legge di bilancio da 27,8 miliardi lordi. Oggi, voto finale alla Camera. Poi, esame in tempi stretti al Senato. Siamo al giornale. L'apertura. Eccola qui. Pensioni. Ecco gli aumenti. Buone notizie. Meno assegni, ma più ricchi. Fino a 260 euro l'anno. Via libera alla manovra. Ammazza imprese. E poi, ancora, la fotonotizia. Fidel comunista miliardario che ha fatto ricchi i parenti. Eredita da 900 milioni. Raul lascia il potere. L'ONU dà uno schiaffo a Trump. L'Italia sta con la Palestina. Gerusalemme è capitale. Solo nove stati con gli Stati Uniti. Il manifesto. Ecco qui l'apertura. Impietrito. Con 128 favorevoli e nove contrari. L'ONU sfida Trump e boccia il riconoscimento unilaterale di Gerusalemme, capitale di Israele. Ci ricorderemo di questo voto. Ottuonano gli Stati Uniti. Ma l'isolamento di Washington è ormai realtà. E oggi i palestinesi tornano in piazza. Avanti ancora con il mattino. Ecco qui. Leggiamo l'apertura. Banco Napoli. Finisce un'era. La fusione per incorporazione decisa da Intesa al Via. Entro un anno la deliberazione presa a Torino è già recepita dal board campano. Ma resterà il marchio. E poi ancora la verità. Ci avviamo verso la fine della rassegna delle prime nazionali. Consulenze irregolari con il sì di Boschi. L'indagine per Banca Etruria punta su 400 mila euro di pagamenti che sarebbero stati approvati fuori dalle norme, come d'accordo con il vicepresidente. In cambio all'istituto sono arrivate semplici slide. Ma Renzi difende a oltranza la figlia del banchiere. Poi quanto avvenuto in Australia, sublanciato sulla folla a Melbourne, catturato l'attentatore. Poi ancora vediamo la prima pagina di avvenire. Ecco qui l'apertura. Gerusalemme capitale. L'ONU boccia Trump. Passa la censura. Minacce degli Stati Uniti. Ce ne ricorderemo. Risoluzione approvata con 128 voti a favore. Tra cui l'Italia, 9 contrari e 35 estenuti. Francesco, amicizia e pace per la terra santa. Lasciamo qui le prime pagine nazionali. Torniamo ai quotidiani locali. Pagina 2 del centro. La guerra del grano di mille agricoltori. La col diretti in campo. Poplatea gremita a Pescara per dire no ai cereali dall'estero. E poi in basso no a nuovi centri commerciali. Fino al 2021 maggioranza centrodestra approvano il mille proroga e oggi tocca al bilancio di 6 miliardi. I 5 stelle. In 4 anni di governo la situazione dei conti è ancora drammatica. E poi ancora, un anno dopo il sisma, gli allevatori finalmente possono rialzare la testa. In 200 alla cena organizzata nel terramano con l'assessore regionale Pepe. Dal governo arriva l'annuncio di fondi in più per i danni del terremoto. Però abbiamo visto a pagina 2 la guerra del grano degli agricoltori. Ieri appunto riunione di Coldiretti Abruzzo a Pescara. C'erano anche le telecamere del Tg6. Vediamo. Un bilancio del 2017 che sta finendo e quelle che sono le prospettive del 2018 che sarà l'anno del grano. Questi alcuni dei temi dell'assemblea regionale dei soci di Coldiretti che si è tenuta questa mattina alla Marina di Pescara alla presenza di centinaia di iscritti e di quasi 200 sindaci dei comuni abruzzesi. Tutti sappiamo quello che abbiamo purtroppo patito nell'anno 2017. Abbiamo iniziato con la neve, abbiamo continuato con il terremoto in quei periodi di gennaio. Poi siamo passati immediatamente a gelate paurose, nonché poi una siccità imprevedibile. E il tutto si conclude con degli incendi che hanno devastato veramente il territorio abruzzese. Dall'altro canto invece le produzioni non necessariamente sono di qualità eccellente. Fortunatamente sono di qualità eccellente. Abbiamo senz'altro registrato un 30% di oliva, quindi di olio. Abbiamo riscontrato un 1% di meno di vino. Ma senz'altro le esportazioni, piuttosto che la qualità intrinseca del prodotto, è eccellente. E ci dicono che il nostro grano non è un grano di qualità. Bene, il sole che il nostro paese ha e gli viene riconosciuto, il clima che ha e gli viene riconosciuto, è quella parte positiva che ci porta grande qualità al grano italiano. Bene, qualcuno ci dice che non c'è qualità, a noi ci vengono le bolle proprio. Perché? Perché gli altri grani in quei paesi dove il sole non c'è, ed è consentito l'uso di un pesticida particolarissimo che si chiama glifosato, che porta a maturazione con un'accelerazione della pianta e allo stesso tempo aumenta il contenuto di proteine, quelle che l'industria dice essere necessarie per avere una pasta stabile, per avere una pasta di qualità. Bene, quel prodotto in qualche modo è stato bandito anche dal Tar del Lazio, 20 giorni fa circa, in un'ultima sentenza. E proseguiamo sul centro con le pagine di Pescara, la cronaca babysitter costretta a vendersi in strada, la ragazza viene picchiata ma riesce a fuggire dopo un anno e mezzo e la squadra mobile rintraccia e resta i distruttatori. L'operazione con l'Interpol, il racconto della polizia, alla polizia in piena notte mi hanno svegliato e portato sulla rivera per farmi prostituire, ho detto no e mi hanno puntato contro il coltello. E poi la denuncia pronto soccorso, emergenza ubriachi in sala d'attesa. Avanti ancora, siamo alla politica, consiglieri già in vacanza, salta la seduta sull'Atari, manca il numero legale per le troppe assenze nelle file della maggioranza. Alessandrini infuriato, la delibera sulla tassa sui rifiuti rinviata a dopo Natale. Proseguiamo. SOS dei dipendenti SOGET rischiano il licenziamento. Appello dei lavoratori dell'Agenzia di riscossione a D'Alfonso e alle forze politiche. Non abbiamo garanzie per l'occupazione. Le istituzioni ci hanno preso in giro. Poi interrogazione dei 5 Stelle, tracce di amianto all'Agenzia delle Entrate. Avanti ancora, siamo a pagina 16 del centro classico. Arriva la polizia e alla fine scoppia la pace. Mattinata di tensione, la preside impedisce l'ingresso ai ragazzi che protestano. Grazie a Radigos raggiunta una intesa su contributo volontario e settimana corta. Ecco un momento di ieri della manifestazione in questa foto all'ingresso dell'istituto. Avanti, siamo a pagina 17. Le prime elezioni su Totò al Misticoni Belisario. Accordo tra l'istituto scolastico e il presidente del Consiglio Comunale Paganelli. Alla Taverna 58 ha presentato il calendario 2018 dedicato al principe della risata. L'assessore fa il DJ a Radio Città, ma di musica operistica. Stefano Civitarese conduce una trasmissione il martedì sera. I pescaresi come i maestri cantori di Norimberga, di Wagner. Ecco qui la locandina con anche l'assessore Civitarese e la sua trasmissione. La locandina di Radio Città. Montesilvano, ecco qui pagina 19. Residenti contro il comune, case sul mare, impegni non rispettati. Il comitato di quartieri, il gabbiano, annuncia un'assemblea pubblica. Dove sono finiti i lavori in corso Strasburgo? Il presidente De Ovidis, eravamo stati rassicurati sul completamento di opere di urbanizzazione. Il comune ora dica quali sono le priorità. E poi finisce sotto un camion, ma si salva investimento davanti alla stazione. La pensionata non è stata toccata dalle ruote del mezzo. Poi il comune vende due scuole a Vallecupa e con l'evento. Minuto di raccoglimento per il dipendente scomparso. A Francavilla la raccolta differenziata cresce fino al 74%. Già raggiunto un livello record dello sbaltimento dei rifiuti riciclabili, ma l'amministrazione punta ancora più in alto. Marinelli, il sistema funziona. E poi di spalla applausi per l'attore e il regista Cavuti. Ugo Pagliai incanta il pubblico dello spoltore Ensemble. E poi ancora a Loretto Aprutino donati a Loretto 25 alberi ornamentali. Proseguiamo, ma cambiamo pagina perché siamo in quella di Chieti. Il verdetto arriva dalla regione bocciato. Megalò 2 stop ai nuovi negozi. Il comitato via conferma il rischio allagamenti e sospende il progetto, il WWF. Ora Chieti e Cepagatti revuochino i permessi. Gli assessori teatini ascoltati con l'Antonio e di Biase. Esistono ancora problemi di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. I commercianti, audizione anche per la Tiberio. L'area è pericolosa, adesso il progetto va archiviato definitivamente. In basso, a Guardia Grele, camion precipita per 40 metri. Incidente sulla statale 81 Piceno a Prudina. Grave il conducente. Vediamo il servizio. Ha fatto un volo di circa 20 metri con il suo vecchio camion Iveco, sfondando il guardrail e precipitando fino nel fossato. Un camionista di Casoli, di 73 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara a seguito delle ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto verso l'una sulla statale 81 Guardia Grele Casoli. L'anziano era alla guida del camion, privo di carico, e viaggiava in direzione Casoli, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo nei pressi della curva a gomito, tra le più pericolose di quel tratto di strada. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente, alla quale stanno lavorando i carabinieri del comando stazione di Guardia Grele e della compagnia di Chietiscalo. Probabile un malore oppure un guasto al mezzo. Il camionista è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno poi deciso per il trasferimento in elicottero all'ospedale di Pescara, dove l'uomo è giunto in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Casoli e Chieti, che hanno estratto l'anziano dalle lamiere della cabina del camion ed hanno recuperato il mezzo con l'autogru. Pagina Aquilana, doppi turni per sposarsi a Colle Maggio, coppia, caccia di una data libera ad aprile, concerto e primo matrimonio, visitatori entusiasti della riconsegna alla città. E poi, sempre nella stessa pagina, in basso, tasse, la restituzione slitta di un mese per le imposte del periodo del sisma. Ci sono aziende che devono pagare fino a 500 mila euro. Siamo alla pagina di Teramo. La rinascita dopo il terremoto. Torricella inaugura il più grande villaggio antisismico d'Abruzzo. Consegnate le casette a 48 famiglie sfollate. La loro gioia, volevamo tornare, il paese ci mancava. Il sindaco Palumbi, rispettati i tempi di Sabatino, bisogna lamentarsi di meno e lavorare. Ecco alcuni dei momenti di gioia ieri alla consegna delle casette del villaggio. Poi, in basso, Malore di notte, muore in casa a 18 anni, notaresco inutili tentativi di rianimare lo studente. Fatta l'autopsia, ma sono necessari altri esami. Ci fermiamo qui con la prima parte di Mattino 6, poi riprenderemo con le pagine di Messaggero la città e quelle dello sport. Vedremo ancora tanti servizi, quindi non lasciateci. Ora le previsioni del tempo e poi la pubblicità. Di nuovo buongiorno, con Mattino 6 proseguiamo la lettura dei quotidiani e siamo sul Messaggero Abruzzo. Ecco qui la manovra economica, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Dalla regione bilancio irricevibile o miglioramenti o presenteremo emendamenti a oltranza. I forzisti chiedono il ripristino dei fondi per la bonifica di bussi. Avanti ancora, siamo alla pagina, o meglio, alle pagine di Pescara. Il 2018 comincia con Ermal Meta. A Piazza Salotto si chiude l'anno con Vinicio Caposela e si apre quello nuovo con l'artista di origine albanese. Il concerto è in programma il 1 gennaio alle 20.30. Misure antiterrorismo, verifiche su palco e vie di fuga. L'assessore Cuzzi ha piazzato un doppio colpo in una città che per quei giorni si annuncia blindata. Vediamo il servizio del TG6. Sarà un fine d'anno con i fiocchi a Pescara, 31 dicembre, 1 gennaio. Tanti eventi, tanti appuntamenti, oltre a quelli che sono già in corso, Assessore Cuzzi, per il Natale. Sì, davvero tante iniziative. Oggi presentiamo un'altra occasione di festa per il 1 gennaio. Infatti, oltre al concerto del 31 dicembre con Vinicio Caposela in Piazza della Rinascita, presentiamo l'evento che saluterà il 2018, quindi l'inizio di questo anno, con Ermal Meta. Un cantante straordinario che parteciperà a Sanremo in collaborazione con Radio Passifal che celebra i suoi 40 anni. È davvero un'occasione per visitare la nostra città che in questo periodo è particolarmente allestita, partendo dalle luci d'artista, dagli eventi che si svolgono nel centro commerciale naturale e in altre zone della città. E poi ci sono questi due grandi appuntamenti di fine anno che segnano ancora una volta la volontà della città di rigenerare l'attrattività, la vocazione turistica e di far venire tante persone appunto a visitare il nostro territorio. Il concerto del 1 gennaio con Ermal Meta vedrà anche la collaborazione tra Radio Passifal e Comune di Pescara. Radio Passifal che quest'anno festeggia un traguardo ambito ai 40 anni di attività. Certo, un traguardo importantissimo perché il 1 gennaio compieremo 40 anni di radio e abbiamo approfittato di questo grande evento che sta, l'iniziativa del Comune per il concerto di Ermal Meta il 1 gennaio a Piazza Salotto in collaborazione con Radio Passifal per i nostri 40 anni che abbiamo contribuito attivamente per la realizzazione di questo concerto. Avete puntato su un cantante emergente. Sì, Ermal Meta che ormai più che emergente sta facendo molta carriera a livello anche internazionale e ha fatto tour in tutta Europa, ha vinto gli MTV Awards, ha fatto terzo a Sanremo e ha vinto il premio della critica a Sanremo lo scorso anno, cioè quest'anno del 2017. Sempre sulle pagine di Pescara del Messaggero, maggioranza assente, figuraccia, tari, il sindaco Alessandrini furioso per lo scivolone in Consiglio Comunale, anche gli uffici vanno in tilt sulle tariffe. Se ne riparla il 27. E poi la cronaca costretta sulla strada con riti voodoo, arrestati gli aguzzini, stroncato dalla mobile, un giro di immigrazione clandestina e di prostituzione in manette, marito e moglie nigeriani. E poi ancora in basso il rito del pergamene per ufficiali e cavalieri. Ecco qui la foto della consegna. Sempre a Pescara, la Col di Retti, in difesa della pasta, preoccupa il trattato CETA per il libero scambio del grano. Da Pescara un netto no al prodotto trattato con glifosato. L'associazione fa i conti con un calo di produzione a causa del maltempo, la crescita dell'export del vino, la nota positiva. E poi in taglio medio, classico, alunni immobilitati contro la settimana corta. Dopo lo scontro, la preside d'amico ha autorizzato i ragazzi a tenere oggi un'assemblea per nuove proposte. Poi in basso, a Francavilla, lettera dei bambini a Babbo Luciani. Più pulizia nella scuola di Pretaro. Proseguiamo con le pagine aquilane. Il nuovo teatro di Cristicchi, la città sul palcoscenico. Il TSA dell'Abruzzo deve diventare il trattamento sanitario delle anime. Gli spettacoli dovranno ispirarsi ad anziani bambini a storie di vita. Ha presentato il nuovo direttore artistico dell'ente culturale, che promette un cambiamento totale della produzione. Il sindaco Biondi è una scommessa per spezzare il pensiero dominante. Poi in basso, Rocca di mezzo, elezioni annullate. Il TAR ha accolto il ricorso del candidato sindaco sconfitto. Errori ad un seggio. Avanti ancora. Siamo ad Avezzano. Guasto in ospedale rischia di soffocare. L'episodio denunciato da Antonello Tangredi della CISL. Ho avvertito i carabinieri, ma all'ASL questa volta c'entra poco. Un paziente si stava sottoponendo a una gastroscopia. Il sindacalista. Chi garantisce i servizi nei nosocomi? Una finestra da scavalcare per entrare in reparto. Infermiere ferito. Siamo alla pagina di Chieti. Ecco qua, Ladri all'assalto delle case. Maxi colpo da 40.000 euro. Nel Mirino un palazzo di via Verdi. Presi soldi e gioielli. Indaga la polizia. Una coppia di commercianti derubata di tutti i risparmi. Custoditi in un armadio. Controlli dei carabinieri. Blitz antidroga con i cani. all'Istituto Tecnico Luigi da Savoia. Poi ancora di spalla. Megalò 2. Altra bocciatura WF. Revocate i permessi. Ieri il Comitato via ha confermato la sua decisione nello scorso marzo. Ma l'ultima parola spetta ai giudici. Siamo a Lanciano. La ZTL riempie di soldi il Comune. Nel 2017 soprattutto per le contravvenzioni nei quartieri storici e nelle casse municipali sono entrati ben 450.000 euro in più. La consigliera Tania Paolucci. Somme da record. Tant'è che si è resa necessaria una variazione di bilancio. Poi ancora. Sempre a Lanciano. Dopo il maltempo e le bufere. L'amministrazione corre ai ripari. Il monitoraggio sul patrimonio verde sarà subito allargato anche da altre zone del centro cittadino. Pronti 20.000 euro. Pagine di Teramo. Ecco qui. Ecco le casette a Tossicia. E 45 milioni per il cratere. Il governatore D'Alfonso annuncia la ricostruzione caseater nel capoluogo. Questa quantità di risorse non l'ho mai vista in 23 anni di attività politica. Stavolta le amministrazioni pubbliche hanno funzionato nel rispetto delle problematiche. E poi Sigilli ha 11 milioni di articoli taroccati. Per la maggior parte sono giocattoli e luminarie. Sei cinesi indagati e aziende sanzionate. Sulla costa, o meglio, non siamo proprio sulla costa, ma siamo a Notaresco. Muore a 18 anni sotto gli occhi del fratello. La vittima è Bruno D'Agostino, studente e piccolo imprenditore. Si è sentito male durante la notte ed ha chiesto aiuto. Nura da fare. Lutto cittadino a Notaresco. Forse una complicanza di polmonite. Escluse malformazioni. Nuovo restyling della stazione ferroviaria. Ripartiti i lavori per migliorarla. Sono arrivati nel frattempo altri fondi per le scuole comunali. Passiamo ora alla città. Il Quotinano della provincia di Teramo. Andiamo subito a pagina 3. Anche in questo caso grande spazio. Questa notizia che abbiamo già visto. Consegnate le casette della Speranza. Taglio del nastro a Torricella, nel villaggio più grande d'Abruzzo. A Tossicia, inaugurato l'ultimo lotto. D'Alfonso ha ricordato che una volta passata l'emergenza, le casette entreranno nella disponibilità dei comuni per fini turistici. Ecco la foto con il taglio del nastro, operato dal governatore D'Alfonso. Ci sono anche il sindaco Palumbi e il parlamentare Sottanelli. Poi altri scatti e una vista dall'alto del villaggio di Torricella. Avanti ancora. Siamo a Teramo. È morto il regista Maurizio Di Mattia. Il terramano è stato stroncato da un infarto a Roma. Questa mattina i funerali al Duomo di Teramo. Una vita per il palco. Regista stabile al Teatro dell'Opera di Roma dall'85. È stato un ambasciatore della lirica nel mondo. L'acqua viva non può più riaprire a stretto giro. Ieri in Comune verifica sui conti. Si pensa ad una gara breve prima del bando vero e proprio da correggere. Pagina 7. La cronaca costrette a chiudersi in camera per evitare le botte. Madre e figlia denunciano il capofamiglia ubriacone e violento che va a processo per maltrattamenti. Poi ancora a Teramo. Strade. Quanti lavori rimasti a metà. Rotatorie non terminate. Opere sperimentali ormai permanenti. E strisce in sospeso. Poi ancora andiamo nelle pagine della provincia. Le notizie dalla provincia. Notte della vigilia con fontane danzanti a Totea. Il borgo di Cronialetto si conferma al top per ciò che riguarda l'organizzazione degli spettacoli. Con la notte azzura la Proloca ormai da anni stupisce per gli eventi partecipatissimi con Big della musica e dello spettacolo. Spaccio in vibrata raffica di assoluzioni. Due condanne su 19 imputati per il traffico di droga da secondigliano. Poi in taglio medio ad Alba Adriatica. Dopo anni migliora la qualità delle acque del vibrata. Il giudizio dei campionamenti alla foce passa da scarso a sufficiente. Poi ancora maxi sequestro di luci e giochi natalizi. La finanza di Giulianova toglie dal mercato 11 milioni di articoli cinesi. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Stefano Giovagnoni. Ha toccato tre regioni italiane. Vediamo a tal proposito il servizio. Maxi sequestro di 11 milioni di articoli fra giocattoli, prodotti, illuminarie natalizie, recanti, marcatura C e contraffatte ed irregolare. Sette le persone segnalate all'autorità giudiziaria. E il bilancio di un'operazione messa a segno dalla compagnia della guardia di finanza di Giulianova, coordinata dalla procura della Repubblica di Teramo e volta al contrasto del commercio di prodotti contraffatti. Articoli quasi tutti made in China che immessi sul mercato avrebbero assicurato ingenti profitti. L'operazione trae origine da un'attività di polizia giudiziaria eseguita nel mese di marzo. Corso che aveva portato al sequestro di giocattoli e articoli con marchio CE abilmente contraffatto, messo a segno all'interno di un esercizio commerciale dell'entroterra Teramano gestito da cittadini cinesi. I prodotti che ad un primo esame sembravano in regola riportando il marchio comunitario, al contrario, all'interno della confezione presentavano evidenti difformità rispetto agli standard previsti dall'Unione Europea, in modo da girare norme e regolamenti a tutela della salute e della sicurezza pubblica e quindi tali da indurre in inganno il consumatore finale. Lo sviluppo delle indagini da parte delle fiamme gialle di Giulianova, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Teramo Stefano Giovagnoni, ha permesso di ricostruire la filiera di distribuzione e commercializzazione di questi prodotti, individuando gli importatori e i grossisti della merce. Segnalate e individuate numerose aziende operative nel Lazio, in Campania e in Lombardia, che in prossimità delle festività natalizie avrebbero rifornito il mercato nazionale con prodotti non in regola. Sempre sulla città, a notaresco, muore nel sonno a 18 anni. Bruno D'Agostino trovato agonizzante nel letto del fratellino, paese in lutto. Domani mattina ai funerali del giovane, il sindaco ha deciso di sospendere gli eventi istituzionali. E poi a Roseto, buon Natari a tutti i cittadini rosetani. Antonio Norante torna nella politica rosetana con un attacco pubblicitario all'amministrazione. Ecco qui la vela con il gioco di parole, Natari, i numeri. Forza Italia, anche se non esprime un consigliere d'opposizione, poiché ha fatto un percorso diverso da futuro, esprime 700 voti. Avanti ancora, siamo alla pagina della cultura. Parte da Atri, il Gala della Lirica. Il concerto di questa sera apre il tour con Martina Serafin e Alessandro Guerzoni. Siamo ora allo sport. Ecco qui il Teramo prova a regalarsi un Natale felice. Stasera col Mestre e i Biancorossi giocano l'ultima dell'anno. De Grazia Play, Bacio e Tulli le due punte. Esperienza unica, Asta alla vigilia della partita traccia un bilancio della sua avventura biancorossa. Ci mancano 4-5 punti, ma qui sto lavorando, mettendo tutto me stesso. Ci teniamo a vincere con il Mestre. In basso, l'analisi dell'avversario del mister Antonio Valbruni. Difesa a 3, centrocampo collaudato. Le armi della matricola Mestre. La squadra di Zironelli però è in fase calante. Non vince da un mese. La zona calda della classifica si avvicina. E poi ancora, ieri si è giocato nel campionato di eccellenza abruzzese. Giulianova una cinquina per chiudere l'anno. Doppiete per Tozzi, Borsoie e Di Paolo. Il gran sinistro del capitano del grosso. Martinsicuro a meno 5. Gara mai in discussione. Giadorossi non hanno mai lasciato scampo agli avversari con 3 gol nei primi 15 minuti di gioco. Prima di passare alle altre pagine locali dello sport, facciamo un excursus sulle pagine dei principali quotidiani nazionali. La Gazzetta dello Sport apre così in signe perla d'Italia. L'azzurro vincitore del premio Gazzetta si racconta. Poi una serie di richiami. Ridi Bala, la Ioia falso 9 con veri prodigi. La Juve lo rilancia. Kessy fatica, Gattuso deve ricaricarlo. Storico colpo di Mediaset mondiale in chiaro. Polemiche dalla Rai. E poi Benzema fischiato. Suarez ritrovato. Il classico dei 9. Vediamo il Corriere dello Sport. L'apertura è dedicata a Milinkovic Savic. Lo pagano 170 milioni. Paris Saint Germain pronta una clamorosa offerta per Milinkovic. Il regista dell'operazione Mendes, l'agente di CR7. Lazio stupita. Solo Neymar e Mbappé sono costati di più. E poi sotto la testata Di Bala con i lupi. Paolo titolare con la Roma torna in coppia con Higuain. E poi altro colpo. Napoli scatenato. Anche Iunes. Tutto Sport. Questa l'apertura da romanisti perdenti a juventini vincenti. Verso Juve Roma con Cesni, Benetia e Pjanic. Toro. Nuovo contratto per Edera. Milan, Bonucci e Conte ancora insieme. A ottobre la telefonata dell'ex CT per parlare del Milan. Adesso per il Chelsea. Veniamo alle pagine dello Sport. Però tornando sui quotidiani locali. Parliamo ora diffusamente di Pescara. con il servizio e con le pagine di centro e messaggero. Ecco qui il centro che titola così Pescara. Un pareggio che ha il sapore dell'occasione persa. Prestazione senza acuti. In una gara povera di contenuti tecnici. Crescenza illude. Poi la dormita che regala l'1-1 all'Ascoli. Freddo e Sbadigli. Zevan mette un punto sotto l'albero di Natale. Ma la sensazione è che la squadra avrebbe potuto fare meglio. Poi ancora le dichiarazioni. In particolare quelle dell'autore del gol. Crescenzi. Felice per il gol. Basta poco per risalire. Carraro fa mia colpa. Sul gol di Bianchi ero io in marcatura. Poi in 650 da Pescara per sfidare il leggero. Le tifoserie si beccano sugli spalti del Del Duca. Ricordato Rozzi. Lo storico presidente dell'Ascoli. E poi le pagelle. Fiorillo e Valsania. Ok. Carraro in ombra. Il portiere da sicurezza. La difesa. La mezzala entra con Piglio. Passo indietro del regista. Il tridente d'attacco non punge. Infatti i voti migliori sono quelli di Fiorillo. 6 e mezzo. Crescenzi 6 e mezzo. E proprio Valsania 6 e mezzo. Male l'attacco. Portano a casa un 5. Sia Mancuso sia Pettinari sia Benelì. Oltre che Carraro. Vediamo ancora le dichiarazioni del dopo partita. Ma anche in realtà del pre partita. Perché ieri ha parlato ai microfoni di Sky. Il presidente Sebastiani. Sebastiani Zeman prove di disgelo. Il presidente a volte pensa di avere una ditta individuale. All'interno di una società. Il tecnico non ha problemi con il club. E poi le parole del tecnico su questo 1 a 1. Tecnicamente abbiamo fatto male. I ragazzi spesso hanno controllato male la palla. Il terreno qui era diverso. Troppo scivoloso. Vediamo ora il messaggero con la pagina che apre lo sport. Pescara un punto sofferto. Alla fine l'1 a 1 ad Ascoli si rivela guadagnato. Crescenzi porta in vantaggio il Delfino. Su errore di Ragni. Nella ripresa Fiorillo salve il risultato. Il Deluca si rivela un campo stregato. Le parole di Crescenzi. Teniamoci stretto questo pari. E poi Zeman poco reattivi. Sebastiani chiude il caso. Allora il servizio della partita di Paolo Renzetti. E poi le dichiarazioni dell'allenatore del Pescara Zeman. Un Pescara in colore esce dal Deluca con un solo punto al termine di 90 minuti deludenti che hanno visto ancora una volta un Delfino lontano anni luce da quella squadra che vorrebbero vedere i tifosi biancazzurri. La realtà di oggi è questa con una formazione incapace di vincere anche sul campo dell'ultima della classe e destinata ad una stagione anonima a meno di una metamorfosi al momento difficile da immaginare. Sotto l'albero il Pescara non trova doni ma solo carbone con un girone di andata ormai quasi al capolinea e giocato ben al di sotto delle attese. Resta in bilico la panchina di Zeman anche se con la sosta ed il mercato alle porte potrebbero non esserci novità che invece fino a qualche ora fa erano molto vicine. Zeman è costretto a cambiare per l'ennesima volta formazione in difesa rispetto alla gara con il Novara Spazio a Bovo, Coda e Mazzotta. Centrocampo conferma per Coulibaly con Brugman e Carraro. E in attacco conferma anche del trio mancuso Pettinari-Benali. Nell'Ascoli l'ex Cerse Cosmi propone un 3-5-2 collaudato con Ragni preferito a difesa della porta marchigiana al posto di Lanni. Nelle due squadre diverse le assenze in una serata fredda si gioca agli ordini di Baroni di Firenze di fronte a quasi 7.000 spettatori fra cui 700 supportes Biancazzurri. Al decimo Carraro perde palla e Bianchi per poco non ne approfitta trovando però la risposta di Fiorillo che respinge con i pugni. Dopo il buon inizio i Biancazzurri pur mantenendo il controllo del gioco non riescono a trovare spazi non tirando praticamente mai nello specchio della porta difesa dall'ex Ragni. Il grande assente è così da gioco fra due squadre che dopo 35 minuti di gara dimostrano di avere più di qualche problema. Le uniche emozioni di una partita anonima le regala il tecnico Piceno Cerse Cosmi che davanti alla sua panchina è davvero incontenibile. Fra sbadidi e qualche brivido di freddo si arriva poi al 39esimo quando Crescenzi dai 30 metri sorprende Ragni che commette un grave errore di valutazione e con il pallone che si infila così alle sue spalle il Pescara trova il vantaggio e dopo un minuto ha l'occasione con Bruggemann di raddoppiare ma la conclusione del giocatore uruguaiano dai 20 metri finisce di poco a lato. I bianconeri accusano il colpo e la formazione di Zeman cerca di approfittarne anche se al 44esimo e Lascoli a reclamare un rigore per un contatto in area del Pescara che vede poi cadere a terra Perez fra i difensori biancazzurri. Il fischietto toscano lascia proseguire e poi ammonisce lo stesso Perez per proteste. La ripresa si apre al quarto con il pareggio martigiano punizione calciata da Buzegoli e colpo di testa vincente di Bianchi che va a saltare praticamente indisturbato per la rete dell'1-1. Tutto da rifare per i biancazzurri al cospetto della formazione ultima in classifica. Zeman decide di effettuare il primo cambio richiamando in panchina un culibali anonimo e gettando nella mischia Valzania. Il Pescara accusa il contraccolpo psicologico del pareggio martigiano e rischia anche se poi al 14esimo è proprio Valzania che va a colpire la traversa con una conclusione sporca deviata da un difensore martigiano. Ma è la formazione di casa ora a fare la partita, non paga del pareggio. Il match del Del Duca resta però deludente anche se tirato con i difensori biancazzurri tutti ammoniti ad eccezione di Mazzotta. In campo accade poco con l'attacco biancazzurro in serata negativa. Si arriva così all'ultimo quarto d'ora quando le due squadre si allungano e al 34esimo è a Dai davanti a Fiorillo a trovare la respinta del portiere biancazzurro in calcio d'angolo. Al 39esimo c'è l'ingresso sul terreno di gioco del 17enne Elizalde al posto di Mazzotta prima dell'ultimo spicchio di gara che vede al 41esimo il palo clamoroso di Baldini e poi al 42esimo la buona occasione di Addae che a due passi da Fiorillo mette alto. Al 93esimo ci prova per l'Ascoli ancora Baldini ma Fiorillo dice no prima dell'espulsione del difensore ascolano Padella per doppio giallo al 95esimo. Finisce così uno a uno la sfida fra bianconeri e biancazzurri con un punto che non serve però praticamente a nessuno. A parte palla del palo poi qualche cross che è passato davanti alla porta ma se non siamo riusciti a giocare nostro non siamo riusciti a giocare insieme alla fase offensiva che dovrebbe essere nostro pregio e poi subisci. A parte che vedo che hanno controllato male la palla saranno anche le scalpe le cose perché l'erba qua è diversa dai altri campi da solo vedere lo sole che è entrato e ha fatto due palle scivolando nel senso siamo andati in vantaggio con un tiro e poi come sempre cercamo di gestire visto che non ci è riuscita a giocare ma dipende dalle partite lo ripeto tra un po' di freschetto e terreno che non siamo abituati capisco difficoltà nostre non è normale che io vorrei che la squadra tira 20 volte in porta come ha tirato due partite fa ma io non mi sto preoccupando per questo ho detto che sono a disposizione per la società che deve valutare sempre sul centro la serie C Asta Teramo è ora di accelerare il tecnico e la sfida di questa sera al Bonolis contro il Mestre la posta in paglio è alta voglio vincere stasera dunque Teramo Mestre alle ore 20.45 ci sarà anche la diretta di Sport Italia ecco la probabile formazione del Teramo con Calore difesa con Caidi, Speranza e Sales poi al centrocampo Ventola Graziano De Grazia Ilaria e Varas Bacio Terracino e Tulli la coppia d'attacco di fronte il Mestre allenato da Zironelli ex giocatore del Pescara e poi ancora per l'eccellenza il Giulianova allunga in vetta i giallorossi scacciano i venti di crisi con una cinquina al River 65 staccano le rivali promozione ecco qui la situazione con il Giulianova lo vedete a quota 40 punti Orell Chieti ha raggiunto il secondo posto 35 punti come il Martinsicuro segue il paterno a quota 33 Chieti che ieri con il neo allenatore Marino è tornato alla vittoria casalinga 2 a 1 sofferto sullo spoltore l'alligol spezza il tabù dell'angolana e il Chieti va dunque con la vittoria 2 a 1 in promozione il Cologna scappa ma la Rossetana impone il pari 2 a 2 e per il girone B il Delfino resta in vetta con il sesto successo di fila 2 a 0 sul Real Treciminieri con le reti di Ligocchi e Saltarin vediamo il messaggero torniamo sul messaggero ecco qui proprio l'eccellenza il Giulianova allunga il Chieti che rimonta la capolista affonda il River 5 a 0 con Di Paolo e Tozzi-Borsoi la doppietta di Lalli stende lo spoltore Marino parte bene per la Serie C Teramo col mestre per i tre punti della tranquillità si gioca al Bonolis ore 20.45 gioco con due punte dice Asta e noi ci fermiamo qui con la rassegna stampa di mattino 6 e lo facciamo ascoltando proprio le parole di ieri in conferenza del tecnico Teramano Asta per la presentazione della gara di questa sera tra Teramo e Mestre io vi ricordo gli appuntamenti col TG6 ore 14, ore 19 e ore 23 ringrazio in regia Claudio Di Giacomo augurandovi una buona giornata vorremmo chiuderla bene per noi per i tifosi per i ragazzi un po' per tutti ecco e quindi ci teniamo molto ci teniamo molto faremo di tutto per portare a casa la vittoria poi purtroppo il campo a volte non è sempre uno più uno faremo di tutto ma i ragazzi lo sanno ce la metteranno tutta ce la metteremo tutta e speriamo di portare a casa un risultato importante ecco è un po' non dico che ci possiamo tra virgolette assomigliare per il cammino perché comunque loro ha 21 punti però è una squadra che gioca bene a calcio è una squadra che in questo girone a tratti è stata la migliore a giocare a calcio con questo 3-5-2 ma che diventa iperoffensivo con due attaccanti gli esterni sono alti due centrocampisti quindi è una squadra che attacca sempre con molti giocatori e quando è in giornata ha messo in grande difficoltà tutte le avversarie e il mister loro ha questo tipo di mentalità e qui dobbiamo essere molto attenti e bravi a non concedere il loro spazio perché invece se riusciamo a stare ben corti raccorti e ripartire possiamo fargli male cerco di avere più risposte positive in certi ruoli con qualche giocatore quindi sì è un po' questo il pensiero ecco di magari in questo momento di De Grazia davanti alla difesa è per cercare di alzarsi molto di più per andare a prendere il loro play che può essere o Zecchin o Boscolo Papo per cercare i due attaccanti di farli stare un po' più alti e lui alzarsi un po' di più settimana scorsa invece ho preferito Graziano perché avevano due trequartisti o uno più di un giocatore che attaccavano le spalle dei centrocampisti avevano bisogno uno un po' più basso ecco è questo un po' il pensiero però il pensiero di domani come a Reggio al primo tempo un po' diverso a Reggio ci siamo abbassati un pochino che ci stava ma anche domani purtroppo sarà una partita del genere che loro attaccano con molti però è ripartire immediatamente con qualunque giocatore si trovi in zona palla quindi saranno i centrocampisti saranno i quinti di difesa sicuramente gli attaccanti questo è è un è quello che dovremmo cercare di fare domani grazie a tutti grazie a tutti